Sono stati vissuti momenti di paura ieri sera a Casalbordino dove un 41enne è stato accoltellato dal vicino di casa per questioni di parcheggio. Il ferito, un operaio di origini romene, è stato colpito al petto e alla schiena ma fortunatamente non è in gravi condizioni. È stato soccorso dal 118 e attualmente è ricoverato all'ospedale Sampio di Vasto. L'ennesima lite tra i due uomini sarebbe scaturita per un posto auto sotto casa. L'aggressore, un commerciante 63enne, è stato denunciato e rischia l'accusa di tentato omicidio. La scena sarebbe stata ripresa da un testimone con il suo telefonino cellulare.